sono manuel di geronimo sparta racer coach sgx laureato in scienze motore di osteopaca in questi video vi racconterò tutto sul mondo spartan e ocr scoprirete insieme a me tutti i segreti dello sport più bello della terra non esistono ostacoli troppo grandi esistono solo motivazioni troppo piccole ciao a tutti ragazzi di nuovo qui con manuel di geronimo oggi vi voglio parlare di un argomento per me molto buffo ma molto richiesto servono i guanti per una sparta ok ragazzi cerchiamo di chiarire un concetto i guanti sono carissimi da vedere questi da meccanico so che tutti siete gelosi e tutti li volete ma molte persone tutt'oggi si chiedono se realmente i guanti servono questo è quello che penso io dei guanti i guanti non servono allora premessa ognuno deve fare sempre quello che vuole se si sente meglio con i guanti usi i guanti se si sente meglio con la pelle aperta usi la pelle aperta e tutto ciò che vuole però quando vanno usate i guanti i guanti si usano solo in una condizione quando fa freddo quando fa freddo uno si può mettere un paio di guanti invernali per coprirsi le mani mani e piedi sono le parti insieme alle orecchie da coprire più di tutte per soffrire meno il freddo però che succede la maggior parte delle persone pensano che utilizzare guanti in competizione li aiuti a non scivolare la verità è tutt'altra che i guanti vi fanno scivolare durante le gare questo perché prima di tutto a livello fisico avere una base sopra la mano vi comporterà di permettervi di chiudere meno la mano meno avete presa meno grip e meno forza riuscirete a sviluppare quindi se non utilizzate guanti riuscite a stringere di più e riuscite a fare più presa seconda cosa innanzitutto quando uno utilizza guanti deve tenere presente che questi guanti scivoleranno scivoleranno sulla superficie ma anche sulla mano infine i guanti quasi sicuramente saranno sporchi quindi il mio consiglio è non utilizzare guanti se c'è innanzitutto un clima normale non aiuteranno a fare meglio gli ostacoli ma utilizzare solo guanti invernali in caso ci sia freddo nel momento che utilizzerete guanti il mio consiglio è di toglierceli di fronte all'ostacolo in modo di poter affrontare l'ostacolo nel miglior modo possibile e successivamente rimetterceli se avete problemi di calli mani che ve le aprite vi fate male è un problema che abbiamo un pochino tutti noi quello che dovete fare è quello che fanno tutti vi dovete allenare allenare la presa allenare i grip vi permetterà di sviluppare dei calli sulle mani in modo tale da non farvi male i calli vanno puliti vanno trattati vanno tenuti bene non solo i classici calli normali ma bisognerà sviluppare anche il false grip questo per ostacoli tipo twister per ostacoli un pochino più complicati io vi consiglio di utilizzare esercizi come keeping pull up che vi fanno strusciare la mano come si dice a firenze sulla barra comunque sfregare la mano o altrimenti utilizzare spesso kettlebell o piccoli attrezzi per poter migliorare il grip sperando di esservi stato d'aiuto abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video aro